Qui vi presentiamo le 5 migliori materassi in lattice. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Passando al numero 4. Farmarelax Materasso Singolo, anatomico, imbottitura fibra ipoallergenica. È un materasso in lattice fisiologico puro realizzato con le rimovenze dell'albero di Elvea brasiliensis, che dopodiché sono cambiate in schiuma e di conseguenza in foglie. La schiuma del foglio interno ha una struttura composta da miliardi di cellule aperte per un'assistenza di significativa adattabilità, che consente alla colonna vertebrale di preservare il posizionamento più corretto. Il coperchio, in materiale bioelastico, è rimovibile grazie ad una comoda zippe e all'interno del coperchio è presente un'imbottitura ipoallergenica per una migliore igiene e manutenzione del prodotto. È consigliato a persone che non superano i 75 kg di peso. Iniziando la nostra lista al numero 5. M.E. di materasso in lattice, altezza 21 cm, con 7 aree diverse e 100% latex. Si tratta di un modello in lattice con copertura rimovibile assoluta, elastico, ergonomico, non deformabile oltre che in grado di assicurare un'adeguata assistenza vertebrale e un elevato comfort. Il prodotto soddisfa completamente le aspettative così come è generalmente consigliato per coloro che si occupano di determinati problemi di salute come mal di schiena, disco erniato o cervicato. Mal di collo e mal di schiena è anche, ancora più giusto, per coloro che soffrono di problemi di sonno, dolori o che sono particolarmente sensibili agli allergeni. Il materasso del letto è in realtà eccezionale poiché, anche dopo alcuni mesi, non ha mostrato alcun tipo di indicazione di affondamento. Un problema che viene comunemente scoperto in altri materassi nella stessa fascia di PrEP per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. M.E. di materasso in lattice, altezza 21 cm, con 7 aree diverse e 100% latex. Si tratta di un modello in lattice con copertura rimovibile assoluta, elastico, ergonomico, non deformabile oltre che in grado di assicurare un'adeguata assistenza vertebrale e un elevato comfort. Il prodotto soddisfa completamente le aspettative così come è generalmente consigliato per coloro che si occupano di determinati problemi di salute come mal di schiena, disco erniato o cervicale, mal di collo e mal di schiena. Il materasso del letto è in realtà eccezionale poiché, anche dopo alcuni mesi, non ha mostrato alcun tipo di indicazione di affondamento. Un problema che viene comunemente scoperto in altri materassi nella stessa fascia. Almostat è top of our list at number 2. Mento, materasso lattice 100% matrimoniale 160 x 190 classica H18. Questa versione ha un'altezza di 18 cm. Il rivestimento rimane in materiale elasticizzato traspirante con terapia con aloe vera, attrezzatura lavabile a 60 gradi. Può essere sfoderato su tutti e quattro elati. L'ammortizzazione è in fibra igienica ipoallergenica, calda, fresca con edifici termici. Il nucleo interno è composto da una piastra di lattice sanitario ipoallergenica al 100% con 7 aree di sollevamento separate. Il livello di assistenza è medio. Ha una qualifica o Ecotex Requirement 100 classe 1 ideale anche per i neonati per i prodotti utilizzati come tessuto, imbottitura extra, fodera cellulare, foglio di lattice. E' coperto da una garanzia di servizio di vetro. E infine il numero 1 della nostra lista. BaldiFlex Matrasso Lattice Matrimoniale 160 x 190 cm alto 20 cm. Il cuscino che vi presentiamo è un oggetto eccezionale e in grado di assicurare desideri sereni con straordinaria comodità. Il prodotto ha un'imbottitura extra in lattice naturale al 100%. Viene schiumato nella posizione principale e incorpora vari altri prodotti di ottima qualità che lo rendono estremamente traspirante, non tossico e fermano la proliferazione di microorganismi, muffe e allergeni. L'azienda produttrice garantisce la verità che segue perfettamente le linee del corpo ed è anche in grado di offrire un riposo calmo oltre che salute e benessere di tutto il corpo. Integrato con un cuscino eccellente oltre che un'eccezionale grande base adoghe è un vero e proprio investimento finanziario per il benessere grazie a questo mix. Infatti, si può farla franca con fastidiosi dolori alla schiena e collo rigido che spesso rovinano il rest per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.